Ciao a tutti ragazzi, sono Joseph Quindici e ben ritrovati nel canale. Oggi vi faccio vedere un nuovo libro che ho comprato, non è delle magiche storie sonore, e non so di che cos'è, non è delle magiche storie sonore. Vabbè, non so di che cosa può essere. Vabbè, comunque è davvero un libro molto bello. Si intitola Giuseppe. Avete presente il mio canale che si chiama Joseph Miguel? Beh, Joseph in inglese significa Giuseppe, capito bambini? Quindi ho comprato una storia in cui si intitola proprio di me. Allora, in questo video la leggeremo insieme. Se voi la volete leggere insieme a me, fatemelo sapere nei commenti se la volete leggere insieme a me. E mettete un mi piace. Ok, iniziamo. Giuseppe... Oh no! I maghi erano in un grosso guaio. Una strega malvagia aveva gettato un incantesimo malvagio su loro, magico regno. Comprendolo, completamente di viscido del gel puzzolente, tutti i maghi erano intrappolati. C'era davvero bisogno di qualcuno che li aiutasse a catturare la strega malvagia. Ma a chi potevano chiedere? Il vecchio e saggio mago guardò attraverso il suo telescopio speciale e ha visto una persona che poteva aiutarli. Presto, presto, presto manda il magico gufo maestro a chiedere aiuto a Giuseppe per salvarci dalla strega malvagia, gridò il mago. Il magico gufo maestro sapeva che doveva far presto, così aprì le ali e il più veloce possibile svolazzò alla ricerca del ragazzo, avvistato dal vecchio e saggio mago attraverso il suo telescopio. Eeeh, bam, disse Giuseppe, mentre agitava la sua finta bacchetta verso il suo cagnolino rufolo. Oh, rufolo, ti dovresti trasformare in un cane volante. Giuseppe voleva diventare un mago. Mentre svolazzava di qua e di là, il magico gufo maestro improvvisamente entrò nella camera da letto di Giuseppe, dalla finestra e nel suo miglior linguaggio ufesco spiegò tutto ciò che era successo ai maghi. Poi gli chiese se li voleva aiutare a liberarli da quel terribile gel puzzolente. Un po' scioccato ma felice e senza dubitare ulteriormente, Giuseppe disse Certo, c'ho il mago, volevo dire così, il magico gufo maestro Bubolo, Bubolo, tre volte, sbatte le ali quattro volte e in un puff provvisamente apparvero una scopa volante, un mantello e una bacchetta magica. Giuseppe mise il mantello, prese la bacchetta magica e saltò sulla sua nuova scopa volante. Veloci come un lampo sfrecciarono fuori dalla finestra di Giuseppe alla ricerca della strega malvagia. La strega malvagia volava in giro per il regno dei maghi gettando il suo orribile gel verde e puzzolente e ovunque andasse. Ha 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 ha! Schignazzava presto il mondo intero sarà coperto del mio gel puzzolente e nessun mago riuscirà a fermarmi. Ma ancora non sapeva che stava arrivando Giuseppe, che sprecciava sotto i ponti e sopra le case alla ricerca della strega malvagia che gettava gel puzzolente ovunque. Improvvisamente Rufolo abbaia fortissimo il suo naso supersensibile. Aveva fiutato la scia maleodorante della strega malvagia, ma per Giuseppe era troppo lontana per riuscire a lanciare un incantesimo su di lei. Allora Giuseppe si aggrappò ancora più forte alla scopa e schizzò a velocità supersonica verso la strega malvagia. Finalmente Giuseppe raggiunse la strega malvagia. Chi sei? Soghignò lei, mentre lanciava un'enorme palla di gel verde e appiccicoso verso Giuseppe. Giuseppe agitò la sua bacchetta magica alla velocità della luce. E bam! Gel ti fermerò! Gridò. Si aprì un enorme ombrello dai colori vivaci che fece deviare tutto il gel puzzolente. La strega malvagia strillava dalla rabbia, mentre lanciava un'altra palla di gel puzzolente verso Giuseppe. Dopo l'ombrello mandami il cappello! Gridò Giuseppe. Il cappello della strega volò via dalla sua testa e catturò tutto il suo gel puzzolente. Puah! La strega non riusciva a credere a ciò che quel piccolo mago stava facendo. Giuseppe lanciò un altro incantesimo come in un secchiello. Rimarrà in trappola nel tuo cappello. Il cappello della strega, pieno di gel, volò verso di lei. Sulla sua testa, coprendola del liquido puzzolente. Urrà! La strega malvagia era intrappolata. Trionfante Giuseppe portò la strega malvagia al castello dei maghi. Giuseppe era riuscito ad infrangere l'orribile incantesimo della strega cattiva e grazie a lui tutto l'orribile gel puzzolente era sparito. I maghi erano così grati a Giuseppe che gli regalarono il mantello, la scopa e la bacchetta magica. Finalmente Giuseppe era diventato un vero mago. Fine. Ok bambini, abbiamo finito di leggere la storia. Comunque dopo la storia, quando finisce la storia, ci sono delle immagini che si possono colorare. Vabbè, comunque abbiamo finito di leggere la storia. Se vi è piaciuto un video, come sempre, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao! Oh, non devo dimenticare una cosa, mettete commenti, mettete un mi piace e finora ho 169 iscritti, ma aggiungete altre iscrizioni al mio canale. Ciao!